Grazie a tutti. In Italia un commissario straordinario per l'attuazione della trasformazione digitale, Diego Piacentini, che insieme al suo team sta attuando e agevolando questa trasformazione digitale. Durante il talk racconto di tutte le piattaforme abilitanti che stiamo seguendo, delle nostre iniziative che stiamo facendo nascere e portando avanti. Tutto questo affinché sia nella pubblica amministrazione, sia nel privato, ma soprattutto ogni singolo cittadino possa beneficiare della trasformazione digitale così importante oggi nel mondo. Grazie. 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 Grazie.